In questo numero del Salus Tg, SID, test delle mamme, predice il rischio di abete a 5 anni. Scoperto il codice che riprogramma le cellule del cancro. La coppia è più felice se il papà condivide la cura dei figli. Misurare la probabilità di ammalarsi di diabete nei 5 anni successivi utilizzando un esame low cost, già eseguito di routine sulle future mamme. Il test da carico orale di glucosio è lo scenario aperto da uno studio firmato da Giorgio Sesti, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia, insieme ai ricercatori delle Università Magna Grecia di Catanzaro e Roma Torvergata. Il lavoro dimostra che è possibile prevedere la comparsa del diabete anche in persone finora ritenute non a rischio, ma che invece hanno una probabilità quadruplicata di svilupparlo. Un team della Florida Mayo Clinic ha scoperto un possibile modo per riprogrammare le cellule del cancro, in modo che possano potenzialmente tornare alla loro condizione iniziale. La scoperta rappresenta una sorta di codice per spegnere il cancro, dicono i ricercatori. Buone notizie per le supermamme che si preparano a gestire i mille impegni legati al ritorno a scuola dei figli. La soluzione ideale, infatti, sta nel delegare un po' più spesso ai padri. Secondo uno studio americano, i papà che condividono con la madre la cura dei figli finiscono per regalare alla coppia una dose extra di felicità, con riflessi anche sull'intimità. Il team ha usato dati relativi a oltre 900 coppie eterosessuali, scoprendo anche che se le donne si prendono cura da sole o in modo preponderante delle esigenze dei propri figli, entrambi i genitori finiscono per riferire una scarsa soddisfazione e una vita sessuale deludente. Insomma, le frustrazioni sono condivise.